Gianni non era un assassino, non si sarebbe mai suicidato lasciandomi da sola con una bambina da crescere. Sì, io mi sono accorta ieri dalla sua reazione che aveva un atteggiamento molto protettivo nei confronti dei bambini. Da quando era tornato dalla guerra faceva sempre incubi, sì, spesso la notte piangeva e parlava di bambini. E tu non gli hai chiesto spiegazioni? Non ne ho avuto il coraggio, forse avevo paura di quello che mi avrebbe detto, ma adesso voglio sapere, lui era i mortolani, era il suo miglior amico, sono stati in Iraq insieme e anche lui è tornato diverso, ma a differenza di Gianni che ha cercato di curarsi la sua vita è andata alla deriva. In che senso la deriva? Tira cocaina, frequenta giri pericolosi, è pieno di debiti, è diventato pure violento. Le rare volte che si incontravano lui e Gianni finivano sempre per litigare, ma lui è l'unico che può dirmi cosa è successo in Iraq e finalmente me lo dirà oggi. Perché oggi? Perché vuole parlarmi da sola, verrà qui alle tre. Io voglio sapere che cosa è successo a Gianni in Iraq, perché anche se è morto qui, io sono sicura che è stata quella maledetta guerra a ucciderlo. Hai ragione, se non fosse andato in Iraq non si sarebbe mai ammazzato, ma tanto ormai è cosa serve sapere. Gianni non si è suicidato. La porta sul retro. Perché non mi spieghi, eh? Perché non hai il coraggio di guardarmi negli occhi? Sì, è vero. Qualcosa di brutto è successo in Iraq, ma è successo a tutti e due, non soltanto a Gianni. Che cosa stai facendo? Ecco perché non si può raccontare, Valeria. Nessuno deve sapere. Se cerchi le chiavi l'ho presa io e anche le altre. Tu non lo dovevi sapere. Nessuno qui lo deve sapere. Aiuto! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Qualcuno mi aiuti! Apri! Valeria! Valeria sta tranquilla, ci sono qua io, adesso chiamo la polizia. Hai capito? Nessuno qui lo deve sapere! Voi non potete capire! Voi non potete capire! Non potete capire! Sono arrivati! Sono qui! Apri la porta! Fermo! Sù la pistola! Non ti muovere! Metti su la pistola! Mangiala a terra! La letta! Via! Forza, dai! Forza! Forza! Grazie!